Bentornati in Scuola Corghi, oggi vediamo la nostra gamma di staffe per l'assetto applicabili sul nostro nuovo allineatore Exat Linear Plus ma utilizzabili anche su altri modelli della nostra gamma di assetti. Prima staffa che vediamo è una staffa entry level autocentrante a quattro punti che vi permette di lavorare da 10 a 21 pollici ma andando ad applicare delle estensioni possiamo arrivare fino a 26 pollici. La staffa è leggera e affidabile, viene fornita con dei puntali a doppio profilo per cui un profilo ribassato per il cerchio in lega e un profilo sagomato per permettervi di non togliere tutte le volte la borchia dal cerchio in ferro e come accessorio si può anche utilizzare un puntale, sempre un doppio puntale resinato per non andare a graffiare quello che può essere il cerchio in lega o anche il cerchio in ferro per cui un puntale resinato a basso profilo per il cerchio in lega e un puntale sagomato per non andare a rimuovere tutte le volte per cui un profilo diciamo salto borchia perché da non andare a togliere appunto abbiamo già detto la borchia dal cerchio in ferro. Alternativa staffa sempre a quattro punti autocentrante ma professionale made in Italy con guide in carbonio per cui leggera anche qui ed affidabile, doppio pomello di bloccaggio frizionato, questo vi permette di non stringere troppo la staffa durante il montaggio per evitare che si deformi. Anche qui abbiamo dei puntali doppio profilo, in dotazione viene fermito un puntale classico per cui profilo standard per il cerchio in ferro e un profilo ribassato per il cerchio in lega. Come accessorio si può applicare sempre un doppio puntale standard con un profilo ribassato per il cerchio in lega e con un profilo salto borchia per cui da non rimuovere tutte le volte la borchia dal cerchio in ferro o se no abbiamo sempre come accessorio gli stessi puntali ma resinati per cui profilo per il cerchio in lega profilo salto borchia oppure profilo sempre per cerchio in lega o profilo classico per il cerchio in ferro ma abbiamo detto puntali resinati per non andare a rovinare il cerchio in fase di montaggio e smontaggio. Sempre con le staffe 10-26 pollici in carbonio è possibile applicare un'estensione che è questa come vedete qui già montata per arrivare a 30 pollici per cui si va ad aumentare la capacità di bloccaggio fino a 30 pollici oppure andando applicare sempre lo stesso adattatore ma al contrario è possibile anche utilizzarla con gli autocarri con i cerchi d'autocarro perché vi permette di aumentare lo spazio tra la staffa e il cerchio con i cerchi d'autocarro che sono molto bombati. L'ultimo accessorio che si può applicare è l'accessorio spider che è questo adattatore che va applicato sempre sulla staffa 10-26 pollici in carbonio che vi permette di lavorare andare a bloccare la staffa senza andare a toccare il cerchio per cui andandosi a grappare direttamente sul battistrada e sulla spalla del pneumatico. Adesso passiamo a una staffa sempre professionale made in Italy ma leggermente più economica perché ha minor capacità perché ci permette di lavorare da 10 a 21 pollici con una sola manopola di bloccaggio viene fornita solamente con un puntale diciamo per il cerchio in ferro classico come accessorio si possono sempre abbinare i puntali che abbiamo visto precedentemente per cui il puntale salto borchia standard il puntale diciamo non salto borchia sempre standard o i puntali resinati sia quello standard che quello salto borchia che abbiamo visto precedentemente. Poi abbiamo una staffa rapida salto compensazione perché andiamo in appoggio sul cerchio non aggrapparci in quattro punti sul bolo del cerchio ma andiamo in appoggio con tre punti sul cerchio e andiamo a stringerci con questi bracci laterali sul battistrada. Questa è una staffa che abbiamo già detto salto compensazione e rapida che ha la possibilità di lavorare da 9 a 21 pollici ma applicando le estensioni come in questo caso su questa staffa per cui con queste estensioni possiamo arrivare a lavorare anche fino a 28 pollici. I puntalini sono in plastica si chiamano puntali ABS se ne sono di vari tipi in base al tipo di cerchio con cui dobbiamo lavorare per cui abbiamo dei puntali che vanno in appoggio sul cerchio come abbiamo detto di varie dimensioni o dei puntali che se preferiamo per andarci a bloccare sul bordo del cerchio come le staffe a 4 punti. L'ultima staffa è sempre una farapida salto compensazione omologata dai costruttori di veicoli come Mercedes, BMW e Porsche. Per Mercedes utilizziamo questi puntali per Mercedes e BMW utilizziamo questi puntali per cui ci andiamo a centrare sul cerchio dei fori pre lavorati sulla parte frontale del cerchio e ci andiamo ad aggrappare con questi bracci al battistrada. Questo permette chiaramente come abbiamo detto solo per Mercedes e BMW di saltare la compensazione e di avere sempre dei valori precisi. Per Porsche invece andiamo ad utilizzare varie boccole di vario tipo in base alla tipologia di vetture di cerchio. La boccola va montata al centro della staffa, chiaramente i puntali per Mercedes e BMW vanno tolti e ci si va a centrare nel foro centrale del cerchio e sempre a stringere la staffa sul battistrada. Questo permette come abbiamo detto già per Mercedes e BMW di avere sempre un centraggio preciso e di saltare la compensazione.